Eccoci con l'addetto, oggi prima da titolare per te, impegno pure complicato contro un'ottima squadra, un commento a caldo? Un commento a caldo, è stata un'ottima partita, una partita piena di intensità da parte di tutte e due le squadre arbitraggio un po' scombussolato, però dal punto di vista soggettivo ci meritiamo questa vittoria per come stiamo lavorando da tanto tempo, oggettivamente pure ce la meritiamo perché sempre dal punto di vista da come parla il campo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto il nostro gioco purtroppo abbiamo perso un po' di mentalità alla fine, ma comunque abbiamo portato a casa il risultato La partita è davvero ben giocata da parte vostra, molto concentrati, forse poche volte quest'anno così quasi vi trasformate quando affrontate le prime in classifica? Sì, ci mettiamo più grinta, non sottovalutiamo l'avversario, magari una cosa ci può capitare con le squadre di bassa classifica però, ahimè, sono queste partite che contano Senti, due domande, l'ultima te la faccio sulle mister, come hai visto l'arrivo del nuovo mister come vi trovate con lui, e la seconda te la faccio più personale, come ti senti? Bene, allora, del mister ci troviamo molto bene, un mister molto tecnico, pure fisico quindi parliamo abbastanza in campo, aumentiamo la discussione poi dal punto di vista tattico prepariamo bene le partite, controllando pure tattiche avversarie quindi ci prepariamo durante la settimana, e io mi sento bene, prendere 90 minuti non è semplice quindi ho chiesto il cambio, non mi ricordo verso che minutaggio Justamente, poi hai aspettato il tuo momento e l'hai fatto alla grande quindi ancora complimenti per oggi e in bocca al buco per il continuo Grazie